Scusate, qualcuno di voi ha visto il mio iPhone? Scusate, qualcuno di voi ha visto l'iPhone, regà? No, no, sì o no? Nessuno ha visto il mio iPhone? No, 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 no. Che non riesco a trovarlo, non so. Ciazzetto, ma vuoi dire, allora le cuccarine tu botte niente, dai, quasi. Ma non è la morta? No, è morto Marco Colombrozzi, no, allora le cuccarine. Ma lei è un po' tipo... Scusate, regà, scusate, qualcuno me lo fa squillare l'iPhone? Oh, lui, me lo fai squillare l'iPhone, per favore, lui. Ti prego, me lo fai squillare, non lo trovo. Vabbè, va così. Sta squillare? Com'è sta squillare? Ciazzetto. Pronto? Pronto? Che vuoi? Ah, buon uomo, salve, lei ha trovato il mio iPhone, grazie a Dio. Senta... Qual è iPhone? Scusate, tu ho sbagliato il numero. Ma no, io le assicuro che questo è il mio numero. È il mio, è il mio iPhone. Senti, babbusso, io ti spacco la fascia. Questo è il mio numero, questo è il mio iPhone. Se tu hai problema, vieni qui a Camponuovo e ti risolviamo civilmente. A sprangati. Pronto? Pronto? Raga? Mi hanno fatto l'iPhone. Che cosa? Raga, mi hanno fatto l'iPhone. Mi hanno fatto il burro, raga. Sì, mi dispiace un botto, veramente. Sì, ma che io fai le foto, dai. Ma che sei stupido. Ma che porti? Guarda, Luca, io te capisco. Una volta pensavo ad essermi perso l'iPhone. È stato come perde mia madre in un incidente stradale, in un frontale contro mio padre. È stato malissimo tre giorni. Te capisco. Luca, se questo può esserti di conforto, sappi che i tuoi amici ci saranno sempre. Vero, Luca. Sta tranquillo, dai. Dai, Luca. Oddio, raga. Grazie. Sa bene di poter contare su di voi per me. Scusa, hai detto qualcosa? Scusa, hai detto. Scusa, hai detto. Non avresti mai pensato che sarebbe diventato così importante. Ma poi l'hai capito. Se hai problemi, vieni, campo nomadi. Risolviamo scivilmente. Asprangati! No! 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 Ma come cazzo sei vestito? Ciao ragazzi, sto andando al parco. Al che? Al parco? Al parco? Dai, venite anche voi. Ma sei appazzito. Ma qual è il problema, ragazzi? Io dopo non ho più l'iPhone, finalmente posso dedicarmi nuovamente alle mie vecchie passioni. Tipo? Tipo, che ne so, suonare l'harpa, ad esempio. L'harpa? Ma te non hai mai suonato l'harpa in vita tua, Luca? Vabbè, se vi viene voglia, sapete dove trovarmi. Ciao ragazzi! A me il ragazzo mi trovo a cuore. A me il ragazzo mi trovo a cuore. Ma la tipa di ieri sera, quant'era figa! Mamma mia, calcolo, ho pure beccato il profilo su Facebook, c'ho delle foto da sozza, proprio. Ma qual è quella, quella tipa, quella che c'è le foto, c'è lei con la nonna, che dice quanto è figa a mia nonna, però all'estate. E lei è nuvota, capito? Cioè, oltre che simpatica, pure bella, dal vivo, è bellissimo, ieri sera ha visto. E dove siete andati ieri sera? Luca, siamo usciti. Certo siamo usciti. Ma perché mi avete chiamato? Io mi hanno dato un messaggio comunicare su WhatsApp. Potevi venire, cioè. Potevi venire, rispone. Ma raga, ma vi rendete conto che voi state sempre attaccati all'iPhone? Cioè, ma vi rendete conto che fuori c'è tutto un mondo che voi vi state perdendo? Ma a noi comunque comunichiamo, siete che sei chiuso sul libro da due ore, perdonaci. Grandi regà, come state? Oh, bella. Stasera? Dajelo. Stasera francesi. Stasera francesi. Dai, su, namo, su, dai. Ci dammelo subito. Ok, perfetto, perfetto. Dai, dai, dai. Ciao, bello, buone. Regà, regà. Ciao, ma tu me ne trovo. Eeeh, ti infio la posizione su iMessage, vabbè, non su WhatsApp, ok? Ma... Oh, scusa, eh. Pronto? Metanì, ciao. Ah, ma ti hai risposto, ma un danni su Twitter? Ragazzi, indovinate che cosa ho appena comprato su Kicici? Il mio nuovo cellulare. Ragazzi, facciamoci una bella foto con il mio nuovo cellulare, con la mia nuova fotocamera 8 megapixel. Allora, aspettate che ve lo mando subito su WhatsApp. Ma il suono è qui, non prende il 3G. La sentite anche voi, questa musica, che ne dite di cercarlo sul tazam? E la volete sapere la cosa più bella, ragazzi? Wow! E che è anche indistruttibile. Luca. Stai tranquillo, per favore. Passa con la pistola, per favore, Luca. Luca. Luca, 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 Luca. Stai con l'altro. Ti accused effetti da una partecipazione del video. Ma follow il mio revoze, scartato. Am fre wall al nostro video. E' la guida riportando... ... Luca, ciao senti, noi ti avremmo fatto un piccolo pensiero perché ti abbiamo visto stressato, nervoso e niente ci teniamo a te, vorremmo che tu tornassi come prima insomma è tuo Luca, raga ma che è? devi capire che i tuoi amici ti hanno visto nervoso e l'hanno detto vabbè, ma che è davvero, ma che è, cinque, guarda, apilo, apilo, scarto, ma raga andò a vedere, ma è veramente uscito veramente da un tunnel, ma è uno smartphone, ha lo schermo più grosso, eh, il batterio non dura pure di più, ma pesa di meno, ci puoi scaricare le applicazioni gratis, raga ma a me, a me che cazzo sono una prega, scusate, no, io dai grazie a tutti